Il Tribunale Amministrativo di Ancona il 10 dicembre si dovrà esprimere in prima istanza su ricorso presentato dal Comitato del No all'incorporazione di Monbaroccio nel Comune di Pesaro. Si tratta di un documento di 33 pagine elaborato dagli avvocati Salvatore Gentile e Daniele Provinciali che chiede di annullare tutti gli atti votati dai due consigli comunali e dalla Regione per portare avanti il processo di fusione. Se il Tarra non riconoscerà la sospensiva al procedimento verrà confermato il referendum consultivo previsto per domenica 13 dicembre. Si voterà dalle 7.30 alle ore 23 e i cittadini di Pesaro e di Monbaroccio saranno chiamati ad esprimere la propria opinione sull'ipotesi di fusione per incorporazione tra i due comuni. Il Comitato del No continua a battersi affinché questo non avvenga. Con l'incorporazione il Comune di Monbaroccio sparirà dalla cartina geografica e diventerà una semplice frazione di Pesaro, la più remoto peraltro, senza nessun potere decisionale. Se, come pare, il Sindaco Vichi sarà l'assessore di Pesaro, almeno all'immediato, dovrà continuare ad obbedire a Pesaro se vorrà mantenere la carica, altrimenti sarà sostituito così come prevederà lo statuto. Poi, ovviamente, il divario tra i due comuni, Pesaro e Monbaroccio, che porta ad una percentuale di 1 a 50, ovviamente ci porterà a non avere alcuna rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale. Il Comitato del No, chiamato appunto Vogliamo Vivere a Monbaroccio, da Monbaroccesi, si specifica che non ha chiesto soldi pubblici per portare avanti la sua battaglia. Cosa dicono i membri? Che al contrario non sta accadendo al Comitato del Sì, che invece è finanziato dai partiti di maggioranza del Comune di Pesaro, che ovviamente li appoggiano. Siamo anche contrari perché non è vero, come dice il nostro Sindaco Vichi, che siamo alla frutta, sia economicamente, perché il nostro è un Comune virtuoso, siamo al 2,39% di indebitamento, quanto molti altri Comuni sono al 7, l'8, il 9%, quindi il nostro è un Comune virtuoso e dal prossimo anno si libererà il patto di stabilità e quindi avremo tutte quelle risorse necessarie per continuare a vivere indipendentemente e non abbiamo nessuna necessità di farci incorporare da Pesaro. Sarebbe stato più nobile destinare le risorse altrove come per il Santa Marta, suggeriscono piuttosto che finanziare un referendum di una città di 95.000 abitanti contro un Comune di appena 2.000, una situazione che definiscono disgustosa. Sarà importante recarsi alle urne, quindi? Sarà fondamentale recarsi alle urne perché il voto dei monbaroccesi sarà tenuto sicuramente in considerazione dalla Regione che dovrà dire sì o no a quella che è l'incorporazione. Naturalmente un no deciso dei monbaroccesi, quindi un voto deciso anche a livello numerico, oltre che partecipativo dei monbaroccesi, sarà fondamentale per le sorti del nostro Comune. Quello che posso dire è che la Regione ha detto questo e che terrà in considerazione quello che i monbaroccesi decideranno. Naturalmente ho considerato anche che il monbaroccio da questo punto di vista è diventato una vittima sacrificata in quanto è partito pochi mesi fa il percorso dell'Unione dei Comuni, era aprile di quest'anno. Ad oggi è stato dimenticato quel percorso, sacrificando il nostro territorio, forse per inadempienze politiche precedenti all'interno di quell'Unione. Quindi io invito i monbaroccesi ad andare a votare, a votare no. E non invito solo i monbaroccesi ad andare a votare, a votare no, ma anche i pesaresi a farlo, perché siamo stati calpestati a livello di dignità e di democrazia, senza il rispetto di quelle che sono le leggi fondamentali, tant'è che in essere è il percorso di Tar e quindi di questo aspetteremo la sentenza.